Musica Devo dire che questi anni di REM invece me li ricordo perfettamente come degli anni felici. C'è questa natura meravigliosa della Valle di REM che per me rimane uno dei più bei posti d'Italia. Certamente le parole sono molto logorate proprio perché ne abbiamo fatto un uso frettoloso, superficiale, improprio. La scrittura come la vita è una traversata che non finisce mai, è un avvicinamento continuo, è un laboratorio sempre aperto. Musica 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 Musica